Il 55% dei bimbi tra i 6 e i 10 anni usa internet tutti i giorni. Se saliamo con l'età, cioè passiamo tra i 15 e i 17 anni, arriviamo al 93,5%. Cioè la quasi totalità degli adolescenti usa internet tutti i giorni. E questi numeri sono più alti che per qualsiasi altra coorte anche in età adulta. Quindi sono gli adolescenti in assoluto quelli che di più utilizzano internet. E quindi sono anche i più esperti in questo campo. Infatti i rischi di cui parliamo non vengono dalla non conoscenza degli strumenti. Perché i giovani, gli adolescenti spesso conoscono gli strumenti molto meno di noi. E infatti io voglio cogliere anche l'invito della Presidente Cioffi. E cioè quando parliamo di questi temi è fondamentale che noi ci confrontiamo con quelli che sono gli attori, con i giovani, con i ragazzi di cui stiamo parlando. Mi piacerebbe vederli oggi qui in platea. Faccio un invito a tutti noi nel coinvolgerli in questo percorso che stiamo facendo. Altrimenti faremo l'errore che a decidere per loro saremo noi o saranno persone che non conoscono quel mondo come invece lo conoscono loro.